Finalmente, finalmente ci siamo dopo due anni di assenza da qualsiasi evento era una prerogativa poter esserci e comunque partecipare. Questa è la prima volta dopo due anni che partecipiamo ad un evento, un evento fieristico e di conseguenza siamo contenti e quello che abbiamo potuto vedere almeno da questo secondo giorno è che la partecipazione anche delle persone, dei nostri clienti, dei partner è stata ed è molto attiva e questo ci fa sicuramente ben sperare per un futuro che vogliamo pensare sarà sicuramente migliore di quello almeno che è stato fino almeno in questi due ultimi anni. Noi quello che stiamo assistendo è una forte domanda nell'ambito Unify Communication e questo sicuramente ci fa molto sperare. Lo avevamo già in un certo qual modo previsto qualche anno fa, però l'andamento è stato sicuramente molto, lo è tuttora molto al di sopra delle nostre aspettative. Unico 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 Grazie a tutti.